Sei serate all'insegna della musica, dell'arte e della cultura. Lo Spoltore Ensemble torna anche quest'anno con la sua 39esima edizione che vedrà la presenza di grandi personaggi come per esempio Laura Morante, Giuliana Desio e Paolo Fresu. Per il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito si tratta del decimo Spoltore Ensemble da primo cittadino. L'evento si svolgerà seguendo le precauzioni anti-covid. Una delle manifestazioni culturali più longevi di tutta la regione ha un richiamo nazionale e quindi insomma merita tutta l'attenzione possibile perché la sua storia dice tanto. Noi non ci siamo mai interrotti nemmeno l'anno scorso e nemmeno quest'anno però è chiaro che sono edizioni un po' costrette, costrette perché ad esempio gli spettacoli avranno 200 posti a sedere rispetto alla grande piazza che ospita Piazza San Giovanni che però non più di 200 persone quindi significa che però abbiamo allungato le serate perché abbiamo detto sono pochi posti e quest'anno saranno sei giorni lo Spoltore Ensemble dal 17 al 22 di agosto. Un programma molto intenso con otto spettacoli con artisti molto popolari ma di elevata qualità culturale. iniziamo il 17 con Laura Morante, un spettacolo molto bello, teatro e musica è un po' la chiave classica dello Spoltore Ensemble ma in particolare di questa edizione. Brividi Morali è lo spettacolo che farà Laura Morante che è uno spettacolo in esclusiva per noi ma ci saranno tante presenti, Giuliana Desio ad esempio con Favolosa, ci sarà Stefano Massini, vero e proprio guru dell'informazione televisiva, culturale, chiuderà Paolo Fresu in una giornata davvero densa perché sarà aperta da un concerto dei solisti aquilani con Ugo Pagliaia e Cesare Chiacchiaretti in un omaggio ad Astor Piazzolla e ci sarà poi il concerto conclusivo di Paolo Fresu che è forse il testimone al più importante a livello internazionale per il jazz e per la musica a livello europeo e mondiale. Quindi è un programma davvero molto denso.